Torna per il secondo anno consecutivo a Sulmone il Giro d'Italia di handbike e la corsa che avviene con una particolare bici messa in funzione tramite delle manovelle mosse grazie alle braccia umane. Domani e dopodomani il capologo Peligno ospiterà la decima tappa conclusiva dell'evento presentata in una conferenza stampa a Palazzo Mazzara dagli assessori Lorenzo Fusco e Denea Dianni insieme al comitato organizzatore presieduto da Carlo Maria Speranza, a Lion presieduto da Gabriella Di Mattia e all'associazione sportiva Pedale Sulmonese presieduta da Lorenzo Schiavo. Si incomincerà domani alle 17.30 in piazza Garibaldi per la gara sprint ad eliminazione. La partenza domenica ci sarà invece alle 10.30. Ci sarà sabato una gara in piazza Garibaldi, una gara sprint dove a ogni uno o due giri dobbiamo decidere l'ultimo che passa sul traguardo viene eliminato e alla fine gli ultimi tre faranno la volata finale. Si partirà per ogni categoria quindi avremo otto gare all'interno della serata e poi la serata proseguirà con la cena dei borghi e la musica. La gara di domenica invece è una gara in linea su un circuito di circa 3.000 metri in zona Cappuccini e lì ci sarà il vincitore per categoria, una gara normale dove partiranno tutti in gruppo e arriverà il vincitore per ogni categoria. Sono un'ottantina gli equipaggi che parteciperanno. A lottare per il titolo ci saranno le attuali sette maglie rosa, ciascuna per ogni categoria. Sono sette anche le maglie bianche assegnate nella classifica punti dei traguardi volanti. Domenica verranno così assegnati i titoli conclusivi del Giro d'Italia che farà registrare la presenza sul Mona di tre atleti che hanno partecipato alle recenti Paralimpiadi di Londra. Si tratta di Paolo Cecchetto, Mauro Cratassa e Francesca Fenocchio, vincitrice della medaglia d'argento. Tra i partecipanti anche un corridore del centro Abruzzo, Pietro Trozzi di Pesco Costanzo, tesserato con la pedale sul Monese. La soddisfazione è enorme perché l'organizzazione dell'anno scorso relativamente alla quinta tappa del Giro d'Italia, avendo avuto una risposta meravigliosa dal punto di vista degli atleti che sono l'oggetto principale della città, bisogna dire, ha fatto sì che noi avessimo potuto chiedere agli organizzatori che sono la Federazione Italiana Ciclismo e il Comitato Paralimpico un momento invece decisivo, importante, o l'arrivo o la partenza del Giro d'Italia. E la gratifica è quello che ci hanno assegnato il momento finale, quindi con la premiazione.